ciao ragazzi. io sono Riccardo. bentornati nel mio canale youtube e nel mio garage. oggi vi farò vedere come ho costruito questo supporto per terrappone a colonna. semplice, ma molto funzionale. realizzato semplicemente con una tavoletta di legno. una t-track che avevo comprato per realizzare il banco fresa. il progetto poi abbandonato, perché ho comprato l'altro banchetto che già vi ho fatto vedere. insomma, è un banchetto semplice, piccolo, ma molto funzionale e ricco di alcune chicche che secondo me potrebbero interessarvi. questo video è diverso dagli altri, perché mi si era rotto l'innesto del microfono. quindi non ho parlato durante la realizzazione dei taghi, dei fori, eccetera. ci sarà una base musicale. anzi, fatemi sapere se questo tipo di format vi piace. eventualmente lo ripeto nei video successivi. che dire, vediamo da vicino come è fatto quello che ho realizzato. dopodichè vedremo appunto i vari passaggi con la base musicale. poi ci vediamo per i saluti. vediamolo da vicino. è composto da una superficie, semplicemente in legno laminato. nella parte centrale ho inserito un pezzo intercambiabile. un martire, che poi subirà ovviamente lo sfregamento delle varie punte, eccetera. per evitare che si rovini, comunque io su questa ho fatto un foro più largo. su questa invece un foro più piccolo, perché se dovesse avere bisogno di lavorare su pezzi piccoli, comunque avrei più superficie d'appoggio rispetto a questa. sulle stesse ho inserito delle spine, che vanno a inserirsi all'interno di questa fresatura. quindi si inserisce così e sta ferma. per cambiarla basta o inserire il dito nel foro realizzato, oppure spingerla da sotto, per poterla estrarre. nella parte destra ho realizzato altri due fori, per poter mettere la chiave per aprire e chiudere il mandrino, ed una matita. ho fatto dei segni con un pennarello, perché guardando poi dall'alto, quando si inserisce, non si trova. quindi in questo modo direttamente vedo dove è il segno con il pennarello e inserisco nel foro, senza la necessità di andare a guardare attentamente. poi c'è un foro da questa parte. come vedete, questo serve a collegare l'aspirazione con un foro inclinato, rivolto verso la punta, proprio perché deve aspirare i trucioli, che si formano quando facciamo i fori. sulla parte invece, alla nostra sinistra, c'è questo sistema, che poi attiverà un blocco, una battuta laterale, che funziona in questo modo. l'ho fatto leggermente più basso, perché questa gomma va a premere sullo stesso, tenendola ferma. e possiamo utilizzarlo per forare o dei pezzi piccoli. quindi in questo modo, noi dobbiamo forare al centro di questa tavoletta, così in questo modo la battuta frena il pezzo, che va a fermarsi. quindi possiamo ripetere su pezzi uguali i fori, sempre nello stesso punto. quindi dobbiamo forare, per esempio, dei pezzi in metallo, oppure dei pezzi in legno, che facciano parte della stessa struttura e dobbiamo ripetere il foro. in questo modo, abbiamo la sicurezza di poter avere la battuta, che ho prolungato, con questa sporgenza che c'è da questa parte, in questo modo. quindi nel caso dei pezzi più grandi, possiamo lavorare così e forare, avendo come battuta questa, e come stop la sporgenza che c'è di lato. ovviamente questo si può fare anche più lungo, però poi il peso tende a fare perdere stabilità. eventualmente si può mettere uno spessore con lo stesso pezzo, che sarebbe il cerchietto di prima, messo così. e quindi abbiamo la battuta sicura e siamo sicuri che il pezzo rimanga perfettamente parallelo alla battuta. quindi possiamo ripetere il foro allo stesso modo. ovviamente il tutto è regolabile tramite le t-track. svitando queste manopole che ho realizzato, è possibile spostare e avvicinare la battuta alla punta di trapano. le t-track ovviamente arrivano poco più avanti della punta di trapano, perché sarebbe inutile farle arrivare oltre. quindi questo è lo spazio che abbiamo a disposizione. la battuta posteriore, è possibile rimuoverla semplicemente svitando le due manopole. in questo modo possiamo avere il pianetto libero e lavorare tranquillamente senza intracci. quindi dobbiamo fare un taglio in diagonale. abbiamo la possibilità di posizionare il pezzo come preferiamo. nella parte posteriore, purtroppo questo è uno scarto, quindi si è danneggiato. però come potete vedere il foro è in diagonale. ho inserito questo spessore per poter mettere questo pressore. ovviamente poi di tutto vi lascerò i link per poter ricopiare il progetto, o comunque anche personalizzarlo. e questa spina sulla parte posteriore, serve ad alloggiare il martire quando non lo utilizziamo. quindi messo così, nella parte posteriore c'è la possibilità di averlo sempre a portata di mano e non avere il rischio che possa perdersi. sia questo che quello più grande, è possibile posizionarlo ovviamente nella nella spina che ho realizzato. in questo modo. sia uno che l'altro. vediamo però come funziona anche questo sistema di aspirazione. quindi vediamo se riesce ad aspirare almeno una parte dei trucioli che si formano. ho riscaldato questo tubo dell'aspirapolvere, che inserendolo nel foro inclinato. ci permette, grazie all'escursione, di decidere tranquillamente dove deve arrivare. quindi di avere l'aspirazione direttamente nel verso in cui è posizionato. oppure se sono pezzi bassi, posizionarlo in questo modo ed aspirare i trucioli che si formano. vediamo se funziona. vediamo se riesce ad aspirare i trucioli che si vanno formando. questo è quello che rimane con l'aspirazione collegata. vediamo senza aspirazione cosa si forma. c'è un abisso di sporcizia. da questa parte invece ho creato questa inclinazione. ho arrotondato la parte finale, proprio per permettere alla leva di poter passare tranquillamente, altrimenti avrebbe urtato la battuta. in questo modo ho la tranquillità di poter lavorare serenamente. come vedete ho calcolato l'altezza, perché le punte di trapano solitamente sono più lunghe della punta fossner. quindi più in alto di così, il pianetto in teoria non dovrebbe andare. e visto che spesso nei nostri laboratori abbiamo poca illuminazione, o comunque il corpo del trapano a colonna crea ombra sulla base, io ho inserito anche questa lamba tampinza, che mi permette di illuminare il piano di lavoro, avendo una buona visuale e riuscendo a lavorare con più precisione. perché comunque ci permette di vedere bene quello che stiamo facendo. ovviamente ho praticato dei fori sul pianetto e poi ho fissato lo stesso con quattro viti. quindi il materiale necessario per poter realizzare questo supporto per il trapano a colonna, consiste semplicemente in delle boccole che dettate. questo pressore che ci permette di fermare il nostro stop. e poi delle t-track. t-track che è possibile o acquistare. ovviamente vi lascerò tutti i link. oppure realizzare con la fresatrice, con una fresa apposita per fare le t-track, che già vi ho fatto vedere nella realizzazione del supporto semplicissimo per il trapano a colonna che ho nel mio piccolo laboratorio. invece questo lo tengo in garage. quindi adesso vediamo come l'ho realizzato tutta la procedura. quindi tagli, assemblaggio dei pezzi eccetera. e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.